Musica Buonasera, bentrovati in diretta dagli studi di Telebari. E' fallimentare il bilancio della prima settimana di saldi complici le temperature bollenti che hanno frenato le vendite e le prospettive per la stagione autunnale. Non sono rosei. Il servizio di Alessandra Bucci. Prima settimana di saldi, come stanno andando? Beh, maluccia. Non ce l'aspettavamo, visto che siamo stati anche noi commercianti a insistere per prolungare un po' la data, però non sono andati benissimo. Il caldo ovviamente sta frenando gli acquisti? Il caldo incide tantissimo, che comunque la gente, c'è pochissimo di casa. Penalizzati anche dalle temperature e dal momento, che è un momento fuori da ogni logica. I primi giorni di vendite promozionali avevano fatto ben sperare, ma le temperature bollenti di questi giorni hanno frenato bruscamente gli acquisti. A una settimana dall'avvio dei saldi, il 24 luglio scorso, il bilancio è fallimentare e la ripresa delle cerimonie non basta attendere la volata agli sconti di fine stagione. E la pianificazione del prossimo anno è tutt'altro che in discesa. L'ombra della pandemia pesa ancora, soprattutto in prospettiva autunnale. L'aumento dei contagi e le possibili restrizioni influenzano gli acquisti che i negozianti si apprestano a fare per riempire gli scaffali nelle prossime stagioni. L'esperienza dei mesi scorsi brucia ancora, quando i negozianti hanno dovuto chiudere i battenti per l'emergenza Covid, mandando in fumo migliaia di euro spesi per la merce acquistata e rimasta in venduta. Stiamo acquistando meno merce perché tutti ipotizziamo che ce ne possa essere un'altra. Sicuramente la seconda chiusura è stata un po' più morbida rispetto alla prima, quindi ci siamo potuti organizzare, siamo andati anche noi incontro al cliente laddove era possibile, però facendo delle programmazioni sei mesi prima per sei mesi dopo ci rendiamo conto che il magazzino non può essere stracolmo di merce. Quest'anno pensavamo di lavorare più dell'anno scorso, visto la pandemia, ma insomma non è andata benissimo, quindi anche per l'anno prossimo abbiamo acquistato di meno. Quest'anno la data del 24 luglio è stata il frutto di una mediazione che però non ha convinto tutti. Saldi sotto tono, così vengono bollati da molti esercenti che ci confermano anche che non è una novità degli ultimi tempi. Il saldo estivo ha smesso di essere attrattivo da anni, forse è giunto il momento di rivedere tutto il sistema dei saldi, ammette Raffaella Altamura, presidente di Confesercenti Bari e BAT. L'avvio in maniera differenziata nelle varie regioni non aiuta, bisogna puntare su una programmazione più uniforme su tutto il territorio nazionale. Secondo me spostando i saldi il 24 luglio e facendone di questa decisione una decisione a carattere regionale, e non nazionale, è accaduto che il cliente, che comunque è curiosa e ha sempre più familiarità con l'online, ha cercato il prodotto che noi abbiamo, che è un prodotto di stagione, l'ha cercato sull'online e probabilmente lo ha anche acquistato sull'online, perché le aziende partono prima. Diciamo che in questo periodo non stanno andando benissimo, ci aspettavamo di più, si è dimezzato rispetto agli altri anni, vedo la differenza. Siamo ai dati del bollettino epidemiologico regionale, che fa registrare ancora più di 200 positività al Covid in Puglia. Nello specifico, nelle ultime 24 ore, sono stati scoperti altri 232 casi su 11.703 test effettuati, con una incidenza che sfiora il 2% di queste positività. 60 sono in provincia di Bari, non si registrano decessi, ma aumenta ancora il numero di persone positive al Covid in Puglia, attualmente 2348. E la circolazione del virus sta interessando i più giovani, gli stessi che in ambito familiare possono contagiare gli adulti non ancora vaccinati. Di qui l'appello dell'assessore alla sanità Pierluigi Lopalco. Le dosi non mancano, le agende di prenotazione sono sempre aperte. Sono quelli che non sono ancora vaccinati e che hanno molti contatti sociali. Ora, mentre in questa fascia di età noi abbiamo soltanto circolazione di virus con pochissimi casi, diciamo generalmente abbastanza lievi, c'è invece la possibilità che si creano poi i focolai familiari. È questo che stiamo osservando in questo momento, dei focolai familiari. La richiesta a gran voce a tutti quegli adulti che ancora non si sono vaccinati è di prenotarsi al più presto. L'aumento di contagi tra i più giovani ancora in attesa del vaccino sta creando dei piccoli focolai nelle famiglie, generando di conseguenza le prime ospedalizzazioni. A sottolinearlo l'assessore alla sanità della regione Puglia, Pierluigi Lopalco. Questo virus altamente contagioso sta circolando principalmente fra i giovani. L'incidenza, cioè il numero di casi proporzionali alla popolazione, è più alto e proprio fra gli adolescenti e i giovani, fra i ventenni. E purtroppo stanno in qualche maniera entrando in ospedale. Qualcuno, abbiamo qualche unità che comincia ad entrare anche in terapia intensiva. Le somministrazioni non rallenteranno ad agosto. Al contrario, in vista del prossimo anno scolastico, l'obiettivo è rendere immune tutta la popolazione vaccinabile, così da consentire anche agli studenti di tornare a frequentare le classi dopo mesi di stop forzato. A settembre noi avremo, se continuiamo con questo passo e se i cittadini aderiranno proprio completamente alla vaccinazione, noi a settembre avremo vaccinato tutti, tutti coloro che possono essere vaccinati. Quindi parliamo di tutta la popolazione da 12 anni in su. Se noi riusciamo ad ottenere questo livello di copertura, la circolazione del virus si abbasserà, diventerà davvero minimale. E sull'eventualità che tutti i cittadini possano sottoporsi a una terza dose, Lopalco precisa che al momento due dosi sono sufficienti a coprire anche dalla variante Delta. Discorso diverso per gli anziani molto fragili. Abbiamo visto che quelli che si chiamano i fallimenti vaccinali, cioè persone che si sono vaccinate con due dosi e che comunque hanno contratto una malattia grave, li abbiamo osservati soltanto in persone molto anziane. Quello che noi possiamo fare è, per esempio, nel momento in cui ci sarà bisogno, cominciare a pensare eventualmente ad un richiamo. Però nelle persone più giovani al momento, anche nel confronto della variante Delta, persone con due dosi che hanno avuto una forma grave, che sono finite in terapia intensiva, non ne abbiamo viste. Proteggete i bambini, libertà, i vaccini uccidono e la scritta comparsa. Questa mattina impressa con vernice rossa sul marciapiede e su un totem all'ingresso del lab vaccinale di Carbonara. Sull'episodio sta indagando, personale della Digos, volete essere liberi di non vaccinarvi? Ok, ma lasciate la libertà di vaccinarsi a chi ha scelto di farlo, senza gesti inutili, oltre che dannosi per la città, commenta il sindaco Antonio De Caro. De Caro evidenzia inoltre che proprio oggi l'ASL ha comunicato che Bari ha raggiunto l'80% di copertura di tutta la popolazione vaccinabile sopra i 12 anni con almeno una dose. Mi sembra, sottolinea De Caro, che la città abbia già fatto la sua scelta. Weekend da Bollino Rosso in Puglia nelle prossime ore. è previsto un ulteriore aumento delle temperature che innalza a 3 il livello di allerta. Siamo nel pieno di questa ondata di caldo, cosa ci dobbiamo aspettare da questo weekend? Bene, un weekend canicolare, infatti siamo praticamente in piena canicola, il soleone regna sovrano su tutta l'Italia centro-medionale, in particolare sulla nostra regione. Sono giornate fotocopie con giornate appunto soleggiati, notte stellate, le temperature sono elevate, arriviamo anche a leggere ai termometri additura a 41-42 gradi in alcuni punti della nostra regione. Un po' di brezza lungo la fascia costiera, allevia un po' la calura e l'afa, ma nel complesso i giornali sono abbastanza splendidi, i termometri rimarranno tali per tutto il weekend e anche per la settimana prossima avventura. Cambiamenti non ce ne saranno, dove le temperature si attesteranno attorno ai 34-35 gradi con giornate sempre soleggiate. La Gazzetta del Mezzogiorno interrompe le pubblicazioni. Da lunedì prossimo non sarà più in edicola l'annuncio della società Alledi che ha comunicato l'indisponibilità a prorogare il fitto di azienda. La posizione di Asso Stampa Puglia con Beppi Martellotta. Il giornale non sarà più in edicola a partire dal 2 agosto, in quanto la società fittuaria dalla curateria fallimentare di Sud, la Lei di SRL, ha deciso di non autorizzare la proroga delle pubblicazioni. Di conseguenza non vi è nessun soggetto titolato dal Tribunale a partire dal 2 agosto a poter utilizzare l'attestata da Gazzetta del Mezzogiorno. Questa decisione ci è stata comunicata soltanto ieri, lasciando evidentemente in grande difficoltà sia tutte le maestranti, cioè i poligrafici, i giornalisti della Gazzetta, sia il Tribunale che invece contava su una proroga di un mese perché nel frattempo, sino al 31 agosto, si svolgeranno le votazioni dei creditori sul piano di concordato della Mediterranea che è la società proprietaria della testata. La prosecuzione dell'affitto avrebbe consentito le pubblicazioni del quotidiano che invece non sarà più in edicola in attesa delle decisioni che il Tribunale fallimentare della Mediterranea dovrà prendere sul piano di concordato presentato per l'acquisto della proprietà della testata. I giornalisti sono disponibili a far continuare a uscire il giornale lavorando anche gratuitamente. Abbiamo già avuto contatti sia con la distribuzione Lo Buono sia con la stampa per consentire di coprire i costi industriali e poter consentire al giornale di continuare ad andare in edicola in attesa che vengano prese delle decisioni definitive. Laddove al termine delle votazioni la Lady SRL dovesse diventare proprietaria del giornale sarà cura della Lady continuare a mandare il giornale in edicola. Laddove dovesse risultare vincitrice la Ecologica, S.P.A. che ha presentato un altro piano di concordato sarà cura dell'Ecologica a far uscire il giornale in edicola. Noi è quello a cui teniamo e che la Gazzetta continui ad informare tutti i cittadini della Puglia e della Basilicata e non arresti la sua esistenza in tutte le edicole delle due regioni del sud. Il destino della Gazzetta del Mezzogiorno non interessa solo la sorte di un'attestata storica identitaria del sud Italia ma coinvolge il futuro lavorativo di decine di professionisti e operatori del nostro territorio per questo non può più essere trascurata né rinviata. Lo dichiara il sindaco di Bari e il presidente Anci Antonio De Caro con riferimento all'annuncio che da lunedì prossimo la Gazzetta del Mezzogiorno non sarà più in edicola. Da sindaco del capoluogo di regione da sempre legato al nome di questa attestata auspico che nelle prossime ore si possa addivenire ad una soluzione che scongiuri la chiusura della redazione e il licenziamento di tanti validi professionisti che per anni hanno raccontato la vita della nostra comunità. Chiese chiuse, chiesa aperta è stato presentato a Bari il report che fotografa quanto fatto dalla Caritas pugliese durante il primo lockdown l'intervista ad Alessandro Maier delegato regionale della Caritas Puglia. Sentiamo. Ci sono molti dati preoccupanti per esempio l'aumento delle famiglie che hanno chiesto aiuto a Caritas nei mesi del primo lockdown e sono in tutta la Puglia quasi 50.000 famiglie che sono rivolte a Caritas in poco più di due mesi 50.000 famiglie vuol dire più di 120.000 persone e tra questi moltissimi che non hanno mai pensato di rivolgersi a Caritas persone che sono trovate in stato di necessità dall'oggi al domani. Poi emerge il fatto che il lockdown in Puglia non ha causato delle nuove povertà immediatamente così come molti hanno affermato ma ha messo alla luce dei problemi che hanno delle radici molto antiche nell'ingiustizia del passato come per esempio il lavoro nero la disoccupazione la mancanza di occupazione per i giovani la mancanza di risorse il reddito insufficiente ci sono dei problemi che sono venuti alla luce durante il lockdown ma le radici sono molto antiche poi però il report mette anche in luce dei dati che sono incoraggianti innanzitutto la capacità che hanno avuto le nostre comunità cristiane le Caritas in particolare di reagire in tempi brevi brevissimi e soprattutto anche di farsi catalizzatori di altre associazioni di altri soggetti quindi hanno dato anche come posso dire una risposta nel senso che alla povertà si risponde con la condivisione innanzitutto e tutta la comunità poiché animata da Caritas è stata capace di rispondere siamo allo sport il tennis la barese Francesca dell'Edera in coppia con Anastasia Grimalarska vinto sui campi dell'Angiulli Bari lo scudetto del doppio di seconda categoria del tennis sconfitta in finale i tiebreak Sveva Mazzari e Valentina Losciale sentiamo le voci delle protagoniste avete vinto una partita ben giocata da entrambe le coppie sì è stata una partita molto lottata una finale combattuta fino all'ultimo con tanta tensione io ci tenevo comunque perché è la prima volta che giochiamo insieme poi Francesca gioca in casa quindi mi fa ancora più piacere possiamo dire che sfruttate il fattore campo come si dice nel calcio sì esatto anche se non è mai facile giocare in casa perché sono tante pressioni però sono felice perché ho avuto l'onore di giocare con Anastasia e le faccio in bocca al lupo per questa finale di domani e la ringrazio per questa opportunità mi sono divertita tanto anche io grazie e per questa edizione del telegiornale serale è tutto grazie per averci seguito auguro a tutti un buon proseguimento di serata Il meteo è offerto da GLA Industries Since 1965 We Serve Solutions Amici trebi meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che attenzione vede l'atmosfera molto instabile nelle regioni settentrionali soprattutto nella prima parte del giorno con acquazioni temporali anche intensi al centro sud resiste alta pressione con caldo ancora intenso controlliamo la nuvolosità prevista sull'Italia e le regioni settentrionali avranno una giornata tratti piuttosto variabili ma anche nel centro Italia comincia ad affacciarsi qualche annuvolamento come precipitazione però il grosso interesserà le regioni settentrionali con acquazioni temporali anche intensi soprattutto nella prima parte del giorno invece nel resto d'Italia probabilità di pioggia nulla addirittura al sud sole protagonista ovunque quindi in definitiva ci attende una domenica variabile instabile al nord coinvolta in parte anche l'alta Toscana con questi temporali che come vi dicevo potrebbero essere forti quindi grandi ne raffiche di venti improvvise stiamo attenti mi raccomando invece ancora sole in gran parte del centro sud specie versante adriatico e sud con temperature però nuovamente vicine ai 40 gradi all'ombra ma per sapere nel dettaglio fino a quando andrà avanti quel caldo e se anche da voi si rischia il temporale scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo Il meteo è offerto da GLA Industries Since 1965 We Serve Solutions